Parto col dire che Kingdom Hearts è il mio gioco preferito da sempre, adoro i personaggi, le loro caratterizzazioni, la struttura dei mondi e il sistema di potenziamento, naturalmente amo anche la storia, e ultimamente, dopo aver letto alcune informazioni riguardanti il quarto capitolo della serie, ho pensato, perché non fare un video su KH, parlando dell'organizzazione 13? Ed è così che è nato questo video, ah, l'organizzazione di cui tratterò è quella che è stata sconfitta, non l'altra, parlerò naturalmente di ogni membro, concentrandomi solo sugli aspetti più rilevanti, altrimenti il video durerebbe un'eternità, saranno presenti spoiler per chi non ha giocato a tutti i titoli, ma direi di andare con ordine a non perdere altro tempo e di iniziare subito, ma non prima però di aver messo un bellissimo like per supportare il video ed iscriviti se non l'hai già fatto, ti ringrazio. Il quattordicesimo membro dell'organizzazione è Shion, questo personaggio è alquanto interessante, perché non è altri che una copia, un clone, che è stato creato usando i ricordi di Sora, che sarebbe il protagonista di Kingdom Hearts, infatti la ragazza può maneggiare il Keyblade, e ne ha uno tutto suo, il vero nome della ragazza non è stato ancora rivelato, ma il nome in codice della replica è No, che potrebbe collegarsi al suo nome, ossia Shion. Roxas è stato il tredicesimo membro dell'organizzazione, ed è praticamente il nessuno di Sora, anche lui come protagonista è un prescelto del Keyblade. Ciò però che rende interessante il personaggio è la sua volontà di voler cercare la verità su di sé, e il perché si senta così incompleto, secondo me è un personaggio incredibile a 360 gradi, e che ha mille sfaccettature, perché il percorso di Roxas nella serie è cruciale per comprendere al meglio la complessità della storia e dei legami tra i vari personaggi. Il dodicesimo membro è Larxen, e lei è il nessuno di una ragazza di nome, Enrena, che potete incontrare nel gioco Kingdom Hearts Union Z, ma parlando del membro dell'organizzazione tredici, Larxen è un personaggio che possiede un carattere veramente spregiudicato, e sembrerebbe essere alquanto sadica ed adora il caos, e le piace mettere zizzane all'interno dell'organizzazione, come armi usa dei pugnani elettrificati, e li combina perfettamente con la sua velocità, e come potete ben vedere il suo elemento è l'elettricità. Marluxia è stato l'undicesimo membro dell'organizzazione tredici, egli è il nessuno di un ragazzo di nome Lauriam, che possiamo incontrare nel gioco Kingdom Hearts Union Z. Marluxia è un personaggio alquanto ambizioso, ed ha cercato di prendere possesso dell'organizzazione tredici, utilizzando come quartiere generale il castello dell'oblio, dove riusciva a manipolare gli eventi cercando di perseguire il suo obiettivo, ottenendo sempre più potere. Egli usa come arma una falce, anzi, tante falci, e il suo modo unico di lottare crea degli scontri spettacolari, e il suo attributo magico sono i fiori. Il decimo membro dell'organizzazione è Luxord. Per ora purtroppo non si conosce da quale umano è fuoriuscito questo a nessuno, ciò ci fa intendere che KH ha ancora molto da raccontare. Comunque sia, Luxord è caratterizzato da una personalità elegante e misteriosa. Si distingue dagli altri membri per il suo atteggiamento formale e la sua affinità con il gioco d'azzardo. Il suo attributo è il tempo, che usa insieme alle sue armi, che sarebbero delle carte da gioco, creando così situazioni alquanto intricate per i suoi avversari. Trovo che Luxord sia un personaggio affascinante, spero che venga approfondito nel quarto capitolo della saga. Demix è il nono membro dell'organizzazione 13. Anche per lui purtroppo non si conosce ancora la persona da cui è nato questo nessuno, sperando che venga rivelato nel prossimo gioco. Demix possiede una caratterizzazione gioviale e spensierata, in netto contrasto con molti altri membri dell'organizzazione. È rappresentato come un giovane dai capelli lunghi, con una personalità svogliata e non troppo interessata ai conflitti o agli obiettivi dell'organizzazione 13. La sua arma principale è una chitarra d'acqua, che usa per controllare questo elemento. Durante i combattimenti, a differenza di molti altri membri dell'organizzazione, questo personaggio sembrerebbe volere evitare il conflitto diretto, mostrando spesso una certa riluttanza nel combattere. Axel è l'ottavo membro dell'organizzazione, su di lui ci sarebbe davvero troppo da dire, ma in questo video volevo solo dare delle informazioni veloci ed importanti. Quindi, quest'ultimo è nessuno di un ragazzo di nome Lia, che era un allievo di ansia e messaggio, e lo divende solo per liberare una ragazza misteriosa, che viene chiamata Soggetto X. Axel, nonostante la sua fredda maschera iniziale, si rivela essere molto empatico e i suoi sentimenti sono genuini, mettendo a rischio persino la sua fedeltà all'organizzazione per proteggere i suoi amici. Questo conflitto tra il suo dovere come membro dell'organizzazione, con i legami che forma, lo rende un personaggio complesso e coinvolgente. Interessante che Aiza, il suo miglior amico, affermi che da piccolo Lia piangeva sempre, e questa cosa è stata impressa nei simboli che vediamo sul volto di Axel, che sembrano a tutti gli effetti delle lacrime. Quest'ultimo usa l'elemento del fuoco, riuscendo a manipolarlo perfettamente, grazie anche alle sue armi, chiamate Chakram. Il settimo membro dell'organizzazione è Sykes. Quest'ultimo è Nessuno di un personaggio di nome Aiza. Il ragazzo era il migliore amico di Lia, e divenne anche egli un apprendista di Ansem il Saggio. Dopo la sua trasformazione in Nessuno, Sykes mostra una personalità fredda, calcolatrice e priva di emozioni, mettendo in evidenza la distanza emotiva tipica dei membri dell'organizzazione 13. Sykes è riconoscibile per la sua cicatrice a forma di luna sul viso, e per la sua abilità nel combattimento, dove usa una grande claymore, e come attributo possiede il potere della luna. Fantastico. Zexion è il sesto membro dell'organizzazione, Egli è Nessuno di Enzo, che era uno tra gli apprendisti più intelligenti che aveva Ansem il messaggio. Zexion è caratterizzato da un atteggiamento calmo, riservato ed intellettuale, e grazie a ciò riesce a far cadere nei tranelli nemici. Infatti può praticamente creare copie di altre persone, tra cui anche i Keyblade, anche se comunque risultano falsi e non hanno gli stessi poteri di quelli originali, appunto. Egli possiede il potere delle illusioni, che vengono migliorate grazie alla sua arma chiamata Lexicon, che sarebbe un libro magico, e con esso crea illusioni di alto livello e trucchetti mentali, tutto per confondere al meglio il nemico. Il quinto membro di questa organizzazione è Lexos. Quest'ultimo era il S1 di Aelous, che in passato era stato sia un apprendista di Enzo e Mirsaggio, e sia una delle guardie del castello di quest'ultimo. La sua caratterizzazione è incentrata sulla sua natura silenziosa, e sulla sua abilità nel combattimento fisico, offrendo così un contrasto con molti altri membri dell'organizzazione, che utilizzano più astuzia o magia. E parlando di poteri, Lexos possiede la Terra come attributo, che gli dona una gigantesca difesa e potenza d'attacco, tutto ciò unito alla sua enorme forza fisica. E mettiamoci anche che usa come arma una grossa ascia da guerra chiamata Sky Splitter, e il gioco è fatto. Vexen è stato il quarto membro dell'organizzazione 13, egli è nessuno di Heaven, e prima di diventare tale, era un ricercatore del mondo di Radiant Garden. Dopo la sua trasformazione in nessuno, usa le sue competenze scientifiche per contribuire agli obiettivi dell'organizzazione 13. Vexen è riconoscibile per la sua personalità fredda e metodica, concentrata sulle sue ricerche e sulle sue creazioni. Quest'ultimo è responsabile della creazione del Replica, che sarebbe una forma di clone artificiale, e ha contribuito alla creazione di esseri come per esempio Riku Replica. Vexen possiede il ghiaccio come attributo, e lo usa insieme alla sua arma chiamata Frozen Pride, che è a tutti gli effetti uno scudo, che usa durante i combattimenti, sfruttando sia la sua abilità difensiva che offensiva. Vexen è noto per la sua strategia durante le battaglie, e la sua predisposizione a pianificare e sfruttare le debolezze dei suoi avversari. Il terzo membro di questa organizzazione è Xaldin. Quest'ultimo era il nessuno di un personaggio di nome Dylan. Egli, prima di diventare Xaldin, era un soldato che faceva da guardia al castello di Enzemi il Saggio. Naturalmente era anche un apprendista di quest'ultimo. Xaldin è famoso per il suo modo di manipolare le persone, e di combattere in un modo alquanto aggressivo. E' per questo motivo che egli usa come armi sei lance, che manovra alla perfezione grazie al suo attributo, che sarebbe il vento. E' un personaggio davvero forte ed interessante, peccato che sia stato poco approfondito. Ma lo scontro con lui, Kingdom Hearts 2, è stato fighissimo. Xigbar è il numero due dell'organizzazione 13. Nessuno di Bragg. E non solo, questo personaggio ci ha rivelato un gigantesco plot twist, che sinceramente non mi aspettavo. Quando l'ho scoperto sono rimasto super sorpreso. Infatti egli non è altri che Lushu, che in passato era uno degli allievi del maestro dei maestri, ed è stato incaricato da quest'ultimo di sorvegliare al suo Keyblade. E negli anni a seguire ha cambiato sempre corpo, così da sopravvivere al più lungo possibile, arrivando fino a Bragg. Xigbar si distingue per la sua personalità spavalda, sarcastica e per il suo atteggiamento informale. E' noto per i suoi commenti taglienti e il suo modo disinvolto di interagire con gli altri membri dell'organizzazione. E gli riesce ad usare addirittura due attributi. Uno è lo spazio, che gli permette di teletrasportarsi ovunque, di cambiare il campo di lotta quando vuole. Il secondo è il plasma, con cui riesce a plasmare le sue due pistole e a sparare infiniti colpi, simili al laser. Ed infatti il suo stile di combattimento si concentra sull'uso delle pistole, dove è molto abile e preciso. Xigbar dimostra una notevole destrezza nel maneggiare le sue armi, eseguendo tiri veloci e letali contro i suoi avversari. Le sue pistole permettono movimenti agili e flessibili, consentendogli di attaccare da varie direzioni e mantenere una certa distanza dai nemici. Siamo finalmente arrivati al numero uno dell'organizzazione, e qui ci troviamo il misterioso Xemnas. Se dovessi dire tutto ciò che c'è da dire su questo personaggio, ci vorrebbero almeno alcune ore. Ma dato che questo in realtà è un video dove vi sto esponendo alcune info che riguardano i poteri e il loro passato, quindi Xemnas è il nessuno di terra Xenaroth, che sarebbe colui che aveva il corpo di terra e il cuore di Master Xenaroth. Diciamo che la fusione era alquanto instabile e allo stesso tempo molto potente. Xemnas è il leader dell'organizzazione 13 e possiede un carisma fuori dal comune, nonostante il suo carattere freddo e distaccato. E non comandava solo la sua organizzazione, ma era anche il signore di tutti e nessuno, e come attributo possedeva il nulla, con cui poteva creare sfere e saette e non solo. Come armi usa due lame etere, che usa insieme alla sua incredibile velocità una curiosità super interessante sul personaggio, egli è nessuno di una fusione di due maestri del Keyblade, ma non può comunque usare questa speciale arma, che incredibile personaggio. Che dire, credo di aver parlato anche troppo, come ho detto più volte, non ho approfondito al massimo ogni personaggio, perché questo è un video di spiegazione fatto in breve, spero quindi che sia stato di vostro gradimento. Dunque, fatemi sapere cosa ne pensate del video e di Kingdom Hearts e dell'organizzazione 13, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati, e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.